Buon martedì 12 dicembre, tempo di avvento per i cristiani. L'avvento del veniente, della parola che si è fatta carne, del figlio dell'uomo, del Dio che abita in mezzo a noi e che cogliamo nell'altro, nella sua diversità, nella sua domanda di amore, di accoglienza, di solidarietà, di amicizia, di convivialità. Ma anche per i non credenti o i credenti in altre religioni, vi è sempre un'attesa nel divenire e questo riguarda l'intera umanità. Attendere nel divenire, nella imprevedibilità. Goffredo Bosello nel commento al Vangelo di domenica scorsa, trovate il testo nel blog di Enzo Bianchi, ha affermato che dobbiamo prepararci a essere impreparati. Nello stupore, sì, imparare a stupirci nella consapevolezza che per quanto noi possiamo programmarci, prepararci, ci troveremo sempre in qualche modo impreparati di fronte a un divenire che non dipende completamente da noi. Sì, c'è una nostra responsabilità che ci rimanda alla dimensione etica, non c'è nessun dubbio, ma contemporaneamente, l'abbiamo ricordato anche in occasione del congresso dei club, la vita non dipende da noi. Noi non possiamo immaginarci creatori della vita. Noi siamo gli ultimi arrivati delle tante creature che abitano questo pianeta. La vita è iniziata più o meno 5 miliardi di anni fa su questo piccolo pianeta, alla periferia dell'universo che a sua volta è periferia per un sistema molto più complesso. Il nostro universo ha un'età piuttosto significativa, 13 miliardi di anni. E non sappiamo che cosa accadrà nel divenire relativamente alle sorti di questo universo. Pensiamo di sapere tutto, sappiamo molto poco. Pensiamo di poter programmare il futuro, ma anche quando programmiamo un fine settimana per l'estate andare al mare o cercare una bella giornata di soli in montagna. Abbiamo guardato anche le previsioni del tempo, ma sono previsioni, non sono certezze. Potrebbe accadere l'imprevedibile. Allora ci arrabbiamo con la scienza, con la tecnica che non ci garantisce il poter immaginare il futuro, ma proviamo a pensare. Un futuro già visto non sarebbe altro che la ripetizione noiosa del presente. Dunque lasciamoci andare alla imprevedibilità, allo stupore, al costruire una dimensione contemplante, questa parola, la contemplazione, che domenica scorsa Claudio Giorgi ci ha presentato con gentilezza e impegno, ha studiato, ha approfondito e ci ha fatto fare anche un'esperienza di contemplazione. Sarebbe bello che nel sistema dei club questa modalità venisse introdotta sistematicamente, non come fatto episodico, in quella dimensione di meditazione e trascendenza che rappresenta uno degli aspetti un po' omessi dal sistema del club. Non è semplicemente fare un esercizio di meditazione trascendentale. Anche questo, se necessario, e molto spesso è necessario. Ma entrare in una dinamica, di meditazione e trascendenza, nella pienezza della vita quotidiana, significa anche incontrare una serenità che non solo accetta e si lascia andare alla impotenza, ma che agisce serenamente impotente. Michel Davide Semeraro ci ha ricordato che la serenità non coincide con il facile e il difficile non è ostativo rispetto alla serenità. Proviamo a introdurre nella nostra esistenza questi concetti molto semplici. Molto spesso si incontrano persone che bussano alla porta e chiedono aiuto e, sollecitati della cultura dominante, chiedono soluzioni immediate e sicure. La comunità terapeutica, che è diventata dal luogo di liberazione dell'internato nel manicomio al luogo di riparazione di soggetti definiti rotti, una distorsione del significato di un termine, comunità terapeutica, e che coincide purtroppo nella vecchia logica dell'isolamento del deviante, da riparare in nome di quei valori che consideriamo la normalità e che poi di questa normalità rappresentano l'essenza della dimensione guerra fondaia. I valori a cui tanto si richiamano i coltivatori della cultura dominante, i cultori della cultura dominante, quella cultura che viene coltivata nel terreno fertile dell'appropriazione dell'altro e dell'altra, del mancato rispetto della diversità. Ebbene, quali valori? Siamo affetti, qualcuno l'ha ricordato, uno psicoterapeuta recentemente, dalla normopatia. Abbiamo la patologia del considerarci normali e gli altri ovviamente devianti. Questi sono i grandi temi che dovrebbero essere affrontati dalla realtà del club nella coscienza del divenire. In questo tempo di avvento non mancano molti giorni a Natale e in questo tempo di attesa operosa nel divenire incominciamo a imparare a stupirci, a farci anche destabilizzare dagli accadimenti, al metterci radicalmente in discussione rispetto alle nostre presunzioni antiche. Quelle presunzioni che ci fanno immaginare di essere una sorta di divinità. Pensiamo al patriarcato che di fronte alla violenza dei maschi sulle femmine è stato richiamato giustamente come matrice culturale della violenza stessa, che spazia dalla presunzione suprematista di poter fare la guerra nei confronti di quelli che sono considerati inferiori a noi. Ci sentiamo addirittura autorizzati a respingerli e farli morire in mare. Questa è violenza omicida. Esattamente come violenza omicida è quello che noi facciamo per difendere i nostri privilegi, deprivare l'umanità in gran parte delle necessarie risorse per vivere. Questa è violenza omicida. Non possiamo concentrare la violenza omicida solo su fatti di cronaca, importantissimi, tragici, esecrabili, senza alcun dubbio. Ma non porremo mai fine al femminicidio, fin tanto che non toccheremo le radici profonde di quel patriarcato insensato, forse anche il matriarcato non cambia un granchieno, che fa immaginare che qualcuno che si sente più forte, superiore, suprematista, che si sente legittimato in nome del possesso di uccidere l'altra o anche l'altro. Ma questo riguarda anche la funzione genitoriale. Noi non siamo i proprietari dei nostri figli. Noi non siamo i creatori della vita. I figli vengono attraverso noi, così come noi siamo venuti attraverso i nostri genitori, ospiti della vita, che dobbiamo rispettare e celebrare ogni giorno, in una posizione adottante che significa rispetto della vita stessa, nella sua delicatezza, nella sua imperscontabilità, nella sua dinamica evolutiva sorprendente, non programmabile. Sì, dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere sobri, capaci di discernimento, avere a cuore e prendersi cura dell'esistenza. Ma questo non ci risparmia. L'evento imprevedibile. Dobbiamo essere preparati a ritrovarci impreparati, senza ricorrere le illusioni consumistiche che spingono a immaginare un mercato della cura che garantisce la soluzione magica immediata, di fronte a un problema, di fronte a un disagio spirituale. È necessario perseverare costantemente nella imprevedibilità. Senza limiti di tempo i club affermano che tutto questo deve essere fatto in un percorso fino ai fiori, evolutivo. La stessa funzione simbolica della divisione del club ha questo significato evolutivo. Non sostiamo perseverando sul luogo nel quale siamo. sostiamo solo per prendere un po' di riposo. Prenderci un po' di riposo ma per poter camminare oltre. Non perché abbiamo trovato la terra promessa o la soluzione magica ai problemi. Di questo dobbiamo incominciare a riflettere profondamente. I club in questo ci aiutano. Sono esperienza concreta della dimensione dell'amore nella sua completezza. Passionalità eros. Amicizia, filia. Convivialità, agape. E rispetto della diversità. Non è una formuletta magica. È un impegno che siamo chiamati a coltivare in modo perseverante. Ci sono indubbiamente molti problemi nel corso del nostro tempo così come è accaduto per ogni tempo. E di fronte a tutto questo siamo chiamati a una perseverante serenità nella difficoltà. ma concretamente questo si deve tradurre in una testimonianza nelle nostre comunità locali che è possibile vivere serenamente impotenti agendo agendo nella imprevedibilità. Ma non possiamo pensare che tutto questo accada spontaneamente o una volta per tutte perché abbiamo capito tutto. siamo largamente ignoranti riconoscendolo ci possiamo fare protagonisti di ricerca e apprendimento. Dopodomani ci sarà il laboratorio e la scuola che continuerà percorso sul tema della contemplazione di fronte alle illusioni degli infiniti marcati della cura rassicurante. Dobbiamo prenderci cura di noi di noi stessi delle nostre relazioni nel divenire imprevedibile imparando a essere umili misericordiosi nei confronti del prossimo e di noi stessi aperti a liberarci dai troppi fardelli che appesantiscono la nostra esistenza fardelli fatti da tante cose che possediamo per cercare inutilmente di stemperare l'angoscia della perdita l'angoscia della morte ebbene questa angoscia può essere liberata soltanto se incomincieremo a imparare a possedere sempre meno a vivere nella pienezza di una libertà relazionale nella quale non c'è più alcun spazio a quella idea del possesso che mortifica i rapporti tra gli esseri umani impedisce l'autenticità della dimensione dell'amore che dovrebbe essere il fulcro della nostra esistenza per educare al superamento dell'istanza della violenza che è in noi come desiderio di possesso perché non ci facciamo una ragione del divenire stesso che è costantemente superamento di ciò che abbiamo acquisito non dobbiamo continuare a cercare di incamerare fare magazzino espropriando tra l'altro gran parte dell'umanità delle risorse necessarie cerchiamo di essere testimoni di architetture di pace di punti di pace tra le diversità cerchiamo di farlo non è semplice ma possiamo farlo ecco che allora questo tempo di avvento diventa un'occasione straordinaria per rinnovare in noi una coscienza libera e liberante libera non significa priva di relazionalità ma significa autonomia nella interdipendenza altro concetto molto difficile da praticare non certo da comprendere io credo che tutti possano comprendere che cosa significa autonomia nella interdipendenza significa essere leggeri perché non più appesantiti dall'obbligo di possedere allo stesso tempo riconoscendo che siamo largamente per gran parte della nostra vita direi quasi sempre anzi sempre più o meno non autosufficienti e abbiamo bisogno di reciprocità sono tutti elementi piccoli tasselli della esistenza che ci portano a rivedere radicalmente il nostro modo di porci a partire dalle relazioni della vita quotidiana in modo da costruire un orizzonte di senso universale che cambia radicalmente le prospettive che significa appunto quell'agire serenamente impotente che spesso abbiamo ricordato ma che facciamo molta fatica a praticare soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e li cadiamo nella trappola dell'autoasservimento diventiamo schiavi della tecnica e delle promesse illusorie del mercato della cura sto parlando della cura dell'anima sto parlando di quel mercato che cerca in tutti i modi di illudere le persone che attraverso un farmaco l'internamento in strutture riabilitative si possa risolvere definitivamente un problema esistenziale profondo che si dispiega nelle infinite forme sintomatologiche di quel campo che viene definito della salute mentale ma potremmo estendere il ragionamento all'intera salute globale alla benessere della vita su questo pianeta al benessere stesso del pianeta vedete sono moltissime le argomentazioni che dobbiamo affrontare lo facciamo con calma con perseverante attesa nell'imprevedibile con disponibilità di apertura dell'animo alla sorpresa anche quando diventa particolarmente destabilizzante nella sua imprevedibilità questi sono gli elementi attraverso i quali a mio parere possiamo rivisitare il nostro modo di essere oggi in questo tempo di avvento di coscienza di essere sempre costantemente nel divenire molti altri dovrebbero essere di approfondimenti ma per oggi fermiamoci qua spendiamo del tempo a una in una ponderazione contemplante impariamo ad agire se plenamente impotente nella contemplazione che significa disponibilità all'alleggerimento rispetto alle troppe ansie di voler possedere per sentirci rassicurati siamo solo appesantiti non rassicurati la rassicurazione insomma è nella leggerezza di un cammino condiviso con il prossimo in una dimensione comunitaria appunto in eros filia e agape rispetto della diversità nel vivere intensamente la dimensione dell'amore buona giornata a tutti e a tutti rispetto